Rispondo a una domanda. La domanda è che cos'è la mente? Vedi, farsi questa domanda non porta a trovare una risposta su cosa è la mente, perché questa domanda sorge dalla mente. Ciò che sta osservando, ciò quel vuoto che sta osservando e nel quale accade la mente, quello sei tu. E allora scopri quello che sto dicendo, che la mente è vuota, come sei vuoto tu. Ciò che dà un significato, che dà una forma, che dà una valenza, che dà una realtà alla mente, è la mente stessa. Ma tu sei quel vuoto nel quale la mente sta accadendo. Allora quando sei veramente tu a osservare la mente, la mente si svuota. E allora puoi affermare che non esiste. Quando sei tu a osservare l'esistenza, l'esistenza diventa uno spazio vuoto. Ma questo vuoto è paragonabile a ciò che chiami o ciò che stai cercando, come libertà. La libertà, la realizzazione, tutte queste cose qui, non stanno nella mente, e non stanno in una ricerca mentale. La mente e l'idea che esista la mente nasce dalla identificazione con ciò che è la mente. Quello che succede è che quando emerge un pensiero o un'emozione, in modo inconscio noi diamo un'etichetta che è io. Allora c'è l'idea di essere quel pensiero, o colui che ce l'ha. O anche addirittura colui che lo sta osservando. O per quanto riguarda le emozioni, colui che ha quell'emozione. Ma in realtà, se sei veramente tu a guardare quell'emozione, quell'emozione si svuota. Ed è lì che scopri l'amore. Perché l'amore è questo vuoto, questo vuoto pieno, che riempie tutto l'universo. Ed è questo che tu sei. Quello che tu chiami Dio è questo vuoto che riempie tutto l'universo.